Un bacio a tutti, un bacio, eh! Piccola Simona, un bacio forte. Ciao Ale, sono Raffi, vorrei farti tanti complimenti, mi dedichi solo a tu, Sarai. Ciao Ale, sono Elvirata Sennotegnana, curi per ieri, e mi dedichi ok. Quei Ale, ciao, comunque sei troppo bello, mi canti Cattolettovo, ti vedo bene. Ciao Amore, sono Enza Tamarano, mi canti ok, sei fortissimo. Ciao Ale, sono Rita Dei Quartini, mi canti a tutti e due, e volevo dirti che sei bravissimo, tu e tuo fratello Gianluca. Grazie, mi suggerisce il mio chitarrista che su NTB ci sarà una trasmissione che noi abbiamo registrato, giusto? Quando andrà in onda? E poi, ma che succede? Ogni mercoledì vi faremo sapere noi di preciso quando, pif, testimoni, testimoniano con lui Gianluca il chitarrista, bella coppia, te due. Ogni mercoledì su NTB vi faremo sapere di preciso quando, eh? Andiamo con la prossima canzone, andiamoci a telefonare, è pronto? Grazie a tutti.